Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Beatrice Luzzi, è tornata nella casa del grande fratello e ha già sconvolto tutti. Ormai lo sappiamo. L'attrice è super popolare e i sondaggi dicono che potrebbe essere la vincitrice. Per ora è in cima alla lista con il 59% delle preferenze. Sarà per le sue ultime dichiarazioni? Ecco cosa ha detto. GF. Beatrice Luzzi a Fiordaliso. Ti spiego perché sono tornata. Ma sapete perché è tornata? Beh ha raccontato tutto a Fiordaliso. Un'amica speciale che vive con lei nella casa del grande fratello. Prima di tutto, Beatrice Luzzi ha risolto dei problemi con la sua famiglia. Ha detto. Guarda. Tra l'altro sono riuscita a risolvere la situazione di mia madre. Ho avuto una fortuna, perché ho beccato la sua Filippina che va la mattina e adesso abbiamo fatto l'accordo che va tutte le sere a dormire lì. E non è finita qui. Anche la sorella dell'attrice è super contenta perché hanno trovato una soluzione per non dover cercare un'altra badante per la loro mamma. Ora la sorella può anche viaggiare per lavoro senza preoccuparsi. Beatrice ha poi continuato. Quindi mia mamma è contenta. Mia sorella è tranquilla. Adesso ricomincerà anche a viaggiare per lavoro. Ma c'è un motivo ancora più grande dietro al suo ritorno. I suoi figli, soprattutto Alessandro, volevano tanto che tornasse. Anche Paolo, il padre di Bea l'aveva incoraggiata a non mollare mai. Quindi, riepilogando, Bea è tornata per amore della sua famiglia. Per il sostegno degli amici e per la sua carriera. Continuate a seguire per scoprire cosa succederà dopo nel grande fratello. Grazie a tutti.